Grande fratello, colpo di scena, Beatrice Luzzi torna nel reality dopo la morte del padre. L'attrice sarebbe pronta a fare il suo ritorno come concorrente nella casa dopo il lutto già nella puntata di stasera, sarà shock per alcuni coinquilini. Beatrice Luzzi è pronta a tornare al grande fratello. Dopo aver lasciato il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, l'attrice potrebbe fare il suo inaspettato ritorno nella casa più spiata d'Italia già nella puntata di stasera, la prima dell'anno 2024. L'ex volto di vivere era stata costretta a ritirarsi temporaneamente per la seconda volta dal GF a causa del grave lutto che l'ha colpita settimana scorsa, la morte del padre. Il suo ritorno è dunque, per molti versi, inatteso, e c'è da scommettere destinato a sconvolgere alcuni coinquilini in particolare. Scopriamo tutti i dettagli. Grande fratello, il ritorno di Beatrice Luzzi. Beatrice Luzzi torna al GF. A lanciare la notizia è stato il portale Fanpage, che ha parlato di fonti vicino al reality che avrebbero confermato l'inatteso ritorno dell'attrice nella casa di Cinecittà. Autentica protagonista di questa edizione, Beatrice dovrebbe rientrare già a partire da stasera, nella puntata di oggi lunedì 8 gennaio 2024, ci sarà anche il primo appuntamento del nuovo anno per il reality di Alfonso Signorini. Beatrice aveva abbandonato il grande fratello lo scorso 3 gennaio, ufficialmente per motivi personali, come comunicato dalla redazione del reality show. L'attrice era stata già costretta a lasciare temporaneamente il reality in seguito al peggioramento delle condizioni del padre, e il secondo ritiro era stato dettato dal grave lutto dell'ex volto di vivere, vale a dire la scomparsa dell'architetto Paolo Luzzi, suo papà. A quasi una settimana dalla triste notizia, tuttavia, Beatrice ha affrontato il lutto e potrebbe aver già raccolto le forze per fare il suo ritorno al grande fratello. Come riportato dall'indiscrezione lanciata da Fanpage, infatti, potremmo rivedere l'attrice nella casa più spiata d'Italia già a partire da stasera, e il suo inaspettato ritorno rimescolerà sicuramente le carte dell'intero reality. Cosa succederà? Se il ritorno di Beatrice dovesse concretizzarsi già nella puntata di oggi lunedì 8 gennaio 2024, infatti, c'è da scommettere che lascerà l'amaro in bocca a parecchi coinquilini. Nell'ultimo periodo l'attrice era stata presa di mira da gran parte della casa, che aveva fatto terra bruciata intorno a lei isolandola, come accaduto in occasione di Capodanno. Da Letizia Petris ad Anita Olivieri fino a Giuseppe Garibaldi, Marco Maddaloni e, ovviamente, il nemico giurato Massimiliano Varrese, dunque, sarà interessante vedere le reazioni dei coinquilini di fronte a questo inatteso rientro. Alfonso Signorini, inoltre, ha promesso una tirata d'orecchie a tutti coloro che non hanno mostrato empatia nei confronti del lutto di Beatrice.